Presidente Marsilio, l'arrivo della PET-TAC all'ospedale di Pescara è un grande risultato soprattutto sul fronte dell'abbattimento delle liste di attesa? Sì, è un risultato importante, è un percorso iniziato quasi praticamente dieci anni fa, ci è voluto troppo tempo per realizzarlo, però era uno dei grandi buchi neri della sanità abruzzese che abbiamo trovato quando è iniziato il nostro mandato e questo tema delle PET-TAC che a Pescara come in altri nosocomi vengono affittate giornalmente, non c'erano i locali, creava sia un disagio per gli utenti, soprattutto quelli più fragili che fanno fatica poi a salire su quei camion attrezzati per le analisi, sia un grave anche problema di costi, tra le 5 e le 7 mila euro al giorno di affitto, quindi noi realizziamo intanto una grande ottimizzazione delle risorse, abbiamo finalmente sbloccato i lavori e realizzato i lavori per attrezzare le sale dove poter ospitare la PET-TAC e c'è anche una consistente riduzione delle liste di attesa e della tempestività con cui si lavorano, perché insieme a questo c'è da dire che anche al pronto soccorso sono state attrezzate degli impianti di diagnostica che consente di dedicare quelle attrezzature solo al pronto soccorso, quindi senza impattare sul reparto e c'è quindi un doppio canale, si lavora con molta più velocità e potendo produrre molti più risultati. Professor Di Egidio, vogliamo spiegare l'importanza di questa PET-TAC di cui si dota l'ospedale civile santo spirito di Pescara? Allora, a precedere dal fatto che la TAC-PET a Pescara è l'unico apparecchio fisso in tutta la regione Abruzzo, noi abbiamo fatto un discorso di empowerment anche con la popolazione, con i medici di base e con i reparti interni, è un esame molto semplice, un esame che si va sia dall'aspetto funzionale, nello studio, soprattutto nella stadiazione dei tumori e sia dall'aspetto morfologico con l'esecuzione degli esami TAC, cioè nel senso che se si vede una lesione questa appare ipercaptante, quindi è una lesione che ha un elevato metabolismo, quindi un esame molto importante ormai richiesto in tutti i protocolli delle stadiazioni. Noi abbiamo fatto un discorso che adesso vedremo, dove con un empowerment fatto sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista funzionale abbiamo ridotto naturalmente la lista d'attesa, che era la cosa molto più importante, dalla lista d'attesa per eseguire un esame TAC-PET di 15 giorni e soprattutto i costi, perché abbiamo mobilizzato il mezzo che era fuori con un risparmio di costi notevole. Abbiamo fatto questo discorso grazie a un raggruppamento di tutta la diagnosca per immagini, compresa la radiologia, dove ci stiamo organizzando sia sull'efficacia che sull'efficienza, cioè l'efficacia e il raggiungimento dell'obiettivo con il minor tempo possibile, l'efficienza anche con la riduzione dei costi.